Buonasera a tutti, martedì, 7 dicembre, extra date a New York Jazz, andiamo a vedere la special guest di questa sera. Buonasera, buonasera a tutti. New York Jazz, backstage, come tutte le sere, andiamo a intervistare la special guest di questa sera. Tonight we have a very special guest, I'm so pleasure, I'm so glad to sit near Nicky Bellucci, nice to meet you, I'm Nicky, what's your name? I'm Luca Dan, so it's the first time that you are here in New York Jazz in Tresla, how do you feel the club, the atmosphere? It was amazing, I like this stuff, you know, the soundtrack and the bimbo, and everybody likes my music, so it was perfect. And I hope it's not the last time, it's the first but not the last. Yeah, good, and another question, so, you started playing at what age? I was 20, I was 20, and the style of your music, when you started, it was a techno, no, it was a techno music, and after I play house, and now tech house, progressive house, and electric house. And do you play what you like, or do you play what the people want, or do you play what the people want? But maybe they don't like my song, my favorite song, so I play for the people, just for the people, but I like songs too, it's not a problem for me. Yes, yes, traduci. Traduci. Traduci lo che ne mei. Ve lo dico io, lei è la più bella DJI che ci sia. Eh sì, e ci sta un applauso, ci sta un applauso. Lei è bella, è una bellissima ragazza. Marona se è bella. Ci sono dei meraviglii DJs del mondo e io sono... non lo so grande è la prima volta che faccio la backstage perché Luca Setti è il ragazzo che faccia la backstage quindi io mi piace la backstage e io amo Luca salutiamo Luca salutiamo Luca e quindi devi dire che mi piace la backstage ok, grazie molto e mi piace la backstage vuole l'ultimo video sono emozionato sto andando a l'arport con te se ti chiedi ciao a mio amico che è un grande amico Diego there ciao Diego there ciao Diego there ciao Diego there